Ciao ragazzi, oggi parliamo di EASA e del nuovo regolamento dei droni, visto che abbiamo fatto una live proprio questo pomeriggio riguardante questo argomento. Mi è scappata qualche imprecisione durante la live, soprattutto riguardante le date, quindi riprendiamo a mano le slide che avevamo visto durante la live e commentiamole assieme. Stiamo parlando del workshop che si è tenuto a Roma il 1 febbraio del 2019, prospettive e transizione dal regolamento ENAC, mezzi aerei a pilotaggio remoto, al nuovo regolamento EASA. L'ingegnere Sebastiano Veccia, direttore di regolazione personale e operazioni di volo, ci spiega la normativa italiana e le previsioni EASA. La slide si suddivide in tre parti, in cui si parla del regolamento ENAC edizione 2 e emendamento 4 del 21-5-2018, si parla di un periodo transitorio e si parla del regolamento EASA che uscirà nel 2020. Il regolamento ENAC edizione 2 si suddivide in operazioni specializzate non critiche e operazioni specializzate critiche. ENAC ci ha detto che il regolamento EASA verrà emanato prima dell'estate, ma solo dopo un anno dall'entrata in vigore, cioè nel 2020, diventerà applicabile. La decisione di ENAC è quella di creare un regolamento 2019-2020 per coprire questo gap. Ma facciamo un passo indietro, vediamo com'è il regolamento attuale e come sarà il regolamento EASA. Il regolamento ENAC edizione 2 e emendamento 4 del 21-5-2018 si suddivideva in operazioni specializzate critiche e operazioni specializzate non critiche. E una parte era anche dedicata alla sezione ricreativo. Il periodo transitorio tra il 2019 e il 2020 andrà semplicemente ad uniformare ciò che è non critico più ricreativo in un'unica sezione, lasciando da parte quello che è invece la sezione critica. Con il regolamento EASA invece la soluzione sarà creare una categoria Open e una categoria Specific. In realtà le categorie saranno 3, saranno Open, Specific e Certified. Per ora però EASA ha solo ed esclusivamente parlato della sezione Open. In questo periodo transitorio ENAC ha deciso di gestire le non critiche e le ricreative in questa maniera, ovvero tutti i possessori di droni dovranno registrare il proprio drone presso il sito di Flight. Sarà necessario fare un test e un training online e non ci sarà la necessità di nessuna dichiarazione. La formazione del pilota, al contrario di quello che invece saranno le critiche, sarà semplicemente una dichiarazione di competenza. Proprio perché abbiamo parlato delle critiche, eccole qui, e come funzionano? Ovviamente anche qui tutti i droni dovranno essere registrati tramite il sito di Flight. Sarà necessaria una dichiarazione per gli scenari standard, mentre per gli scenari non standard sarà d'obbligo una autorizzazione. Un po' come è attualmente per le critiche. Per quanto riguarda la formazione del pilota, si parla di attestato rilasciato da un centro di addestramento riconosciuto, come può essere Northwest Service, dove io lavoro come istruttore presso la sede di Ali di Classe. Sarà necessario un programma rivisitato e rivisto in coerenza con EASA per uniformarsi e per avvicinarsi a quello che sarà il format poi di EASA. D'obbligo una prova pratica e questa volta il certificato medico non sarà necessario, anche se dal mio punto di vista un certificato medico non farebbe male, magari non un certificato medico aeronautico, qualcosa di un po' meno impegnativo. Però insomma avere una persona che magari non ci vede e pilota un drone non lo vedo al massimo della situazione, ecco. Come cronoprogramma ecco che cosa ci si presenta per quanto riguarda l'estate 2019, per esattezza hanno parlato di giugno con ENAC, una nuova revisione del regolamento ENAC per allinearsi appunto al regolamento EASA fino al 2022. L'istituzione di un tavolo tecnico per tutta quella parte formativa indispensabile per i piloti, con il conseguente allineamento dei corsi per quanto riguarda la normativa EASA. Finalmente si parla anche di corsi BVLOS, quindi Beyond Visual Line of Sight, senza la necessità di vedere il drone direttamente. Ed infine i corsi dedicati alla categoria Specific, che sarà quella categoria più dedicata al lavoro in confronto a quella Open praticamente. O parliamoci chiaro, nelle norme transitorie la condizione è che se il regolamento entra in vigore nel mese di giugno 2019, tali disposizioni saranno applicabili solo da giugno 2020 fino a giugno del 2022. Quindi se vi state chiedendo se vale la pena aspettare il regolamento europeo, la mia risposta personalissima è no, non vale la pena aspettare il regolamento europeo se avete intenzione di lavorare oggi. Iniziate a valutare di fare i corsi di formazione già da subito. Poi, nell'evoluzione che ci sarà con EASA, avrete la possibilità di fare delle conversioni anche degli attestati che ci sono attualmente. Ma torniamo alle slide dell'ingegner Sebastiano Veccia, dove si parla di UAS, Unmannered Aerial System, sotto i 900 grammi. Quindi la domanda che si fanno tutti, ma il mio Mavic può volare sopra le persone? Sì o no? Quali sono i requisiti operativi? Sono quelli della sottocategoria A1. Cos'è la sottocategoria A1? Prendiamo l'altra slide, eccola qui, le slide che ci interessano maggiormente, ovvero le divisioni delle sottocategorie e classi. La A1 è la sottocategoria che ci permette di volare sopra le persone. You can fly over uninvolved people, not over crowds. Quindi non possiamo volare sopra la folla, sopra assembramenti di persone, ma possiamo volare sopra persone anche non coinvolte nelle nostre operazioni. Per rientrare in questa sottocategoria A1 sarà necessario aver effettuato un training online e un test finale online. In realtà la categoria si suddivide anche sotto i 250 grammi di peso, dove abbiamo la possibilità con un drone che va sotto i 19 metri al secondo, non ha spigoli vivi e ha un'altezza limitabile, di volare ovunque anche senza nessun tipo di test. Quindi un po' come sono i nostri 300 grammi attualmente. Ma i 900 grammi, torno nella slide precedente, il livello di competenza del pilota saranno stabiliti dallo stato membro. Quindi se vi state chiedendo se il vostro Mavic Air, il vostro Mavic Pro potrà volare all'interno di questa categoria, quindi sopra alla folla, la risposta non ce l'abbiamo ancora perché saranno stabiliti dallo stato membro. Quindi vedremo come andrà a svilupparsi questo regolamento europeo e anche questa fase transitoria. I droni sotto i 2 kg invece appartengono alla sottocategoria A2, con limitazione a 50 metri, un po' come le non critiche che abbiamo avuto fino adesso. La categoria A2 permette di volare vicino alle persone, fly close to people, you can fly at a safe distance from uninvolved people. Quindi puoi volare a una distanza di sicurezza, in questo caso i 50 metri. Sarà necessario, oltre all'online training e all'online test, anche un theoretical test, quindi un test di teoria in un centro riconosciuto dall'aviazione, un centro di addestramento riconosciuto. In questo caso saranno necessari anche electronic ID o geo-awareness. Cosa significa? Significa che ci sarà la necessità di un dispositivo che traccia il drone sempre e comunque. Nel periodo transitorio sarà possibile utilizzare droni che non hanno questo tipo di supporto, in questo caso però il pilota dovrà essere in possesso di safety certificate emesso dall'autorità, almeno equivalente ai criteri previsti per la sottocategoria A2, quindi una sorta di attestato non critico. Per quanto invece riguardano i droni dai 2 kg ai 25 kg di peso, i requisiti operativi rientrano nella sottocategoria A3. Siamo sempre all'interno dello stesso schema, della categoria Open, e le A3 devono volare in aree dove non ci sono persone e lontani da aree urbane. L'ultima slide dell'ingegnere Veccia parla della proposta di lavoro, ovvero un tavolo tecnico tra ENAC e le scuole, dove avremo al massimo 3 persone di ENAC e 5 persone delle scuole, dove spero vivamente che qualcuno di AOPA o qualcuno di Northwest Service sia presente, e poi avremo un target definito, finalmente una definizione di un target, quindi parliamo di giugno 2019, dove verrà sviluppato un nuovo training program, quindi un nuovo programma di addestramento per quanto riguardano le operazioni non più Open, bensì specific, un programma di addestramento per quanto riguarda il BVLOS e un programma per quanto riguarda le Critics, ovviamente includendo nel tutto anche la parte pratica per le operazioni. Bene, queste erano le slide proposte da ENAC. Non mi resta che salutarvi, se avete domande scrivetemeli qui sotto nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e con i piloti che conoscete. Vi lascio con un simpatico video che è stato messo nel sito di EASA, un unico aggiornamento da fare è che le altezze massime sono di 120 metri, non di 150 come c'è scritto nel video, c'è stato un aggiornamento. Non mi resta che salutarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccate mi piace su questo video, ci vediamo con il prossimo video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!